Dal se in fuggite o dette c'è anche quest'idea dell'IVA selettiva, della rimodulazione dell'IVA e quindi c'è pure chi scrive, anche i titoli di giornali, sul fatto che potrebbe aumentare l'IVA su gli alberghi di lusso. Aspetti, vediamo il servizio al falso italiano e poi ci dice quello che è vero e quello che è falso perché comunque i timori comunque ci sono. Mi ha preso un po' troppo su... Soprattutto da un punto di vista economico perché avrebbe degli effetti recessivi importanti sulla domanda. Guardi, solo per fare due calcoli, noi stimiamo che se l'IVA passasse dal 10 al 12% stimiamo una perdita di fatturato di un miliardo e mezzo che in termini di posti di lavoro significano 14.000 persone che dovrebbero tornare a casa.